Solforati, il dos di Viserba credo sta ridendo come un muatto, è Carlo Zuccherini che va al servizio, può succedere di tutto. E' Viserba in Serie A, Viserba in Serie A, signori, è una cosa incredibile, il palazzetto è ammutolito, 17 a 15, Viserba è una 2, signori. E' Viserba in Serie A